Com'è la mano, qui da gli spogliatori del Eminence Stadium ci troviamo qui fuori alla porta dei Flyers di Barcellona qui i Flyers di Barcellona e c'è anche Ciavarrone, il capo ultras qui in diretta con Mike Con, ragazzi Cristiano Ronaldo in diretta, Cristiano Ronaldo in diretta Cristiano Ronaldo già fa la missione Cristiano Ronaldo, c'è un rozzo qui con il numero 21 e con le sue vapor di colore verde Cristiano Ronaldo, il cattivo, noi chiamolo il cattivo noi qua tutti in attesa di Cristiano Ronaldo che esca dal bagno la folla in delinio che lo aspetta proprio le donne in delinio qui tutti i rispettai Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Intanto cosa ha giocatore? qui nel frattempo intervistiamo lui, Sissino il terzino destro della Roma che ora è stato trasferito all'Arsenal mola cosa stava guarda? e.. da fino a da giugna e poi ritornerà nell'ambiente cialoloso Ehei titolo Ronaldo! Ehhhhh!!!! Certo Cristiano! Certo Cristiano! E lui! che incomincia a fare qualche giochetto con la palla eh signor Cristiano Ronaldo Ehm Senta così Fanno facciamo uno sport, uno sportino per noi eccezionale farà farà la rosa la rosa questa è stata molto inattesa andiamo a dare dai nostri players ragazzi mi scusi special one organizziamo ehi, potete passare la borsa gli aspettiamo qui per l'intervista facciamo presto ragazzi che stanno andando che stanno andando farapapa farapapa farapapapa farapapa oh qualche giochetto di cristiano ando è la folla in delirio per tutti è in esclusiva è in esclusiva questo ragazzi è un rozzo è un pirla andiamo via da questo rozzo l'uomo quello special one che dà gli schemi alla sua squadra il liverpool con noi fernando torres qui ci abbiamo anche amsic trasferito al liverpool per 22 milioni di boone boone il nuovo acquisto della andiamo a vedere che ci stanno andando boone lui si chiama il nuovo acquisto della cazzo quelli fincci già come cazzo quelli ragazzi cristiano ronaldo che beve powerhead cristiano ronaldo per stare più in forma guarda guarda qui abbiamo anche cristiano ronaldo ecco fernando torres e cristiano ronaldo che onore ragazzi sarà un gran match fernando torres come sarà questo match di oggi contro contro un vostro nemico chi sarà sarà un match molto impegnativo cercherò di fare il mio meglio e se segnerò dedicare il mio gol al mio frate grazie qui ci abbiamo il partiere ma è pure a mario napple e giocare il castello qui ci abbiamo mandersa signore mandersa come si sente questo questa mattina spero che non faccia segnare come la vede questa partita la partita è molto emozionante ma andiamo dopo va bene vabbè dopo partita ragazzi andiamo dallo special one ahahah qui in diretta con david tre sei che eh signor david ragazzi non comiti non comiti sei un rozzo non comiti giochetti di cristiano donaldo in onda in diretta dal live live di cristiano donaldo si amico rozzo andiamo da l'asso l'asso pepe del ram eh signor lei dica che fermerà cristiano donaldo si lo fermerà andiamo da cristiano donaldo che pepe Andiamo da Amicic, Amicic, trasferito qui al Manchester United per una cifra di 30 milioni di gizzerone, un grande difensore, un grandissimo difensore, Diodato Baic, cosa di che signor Diodato fermerà l'attaccante esterno del Manchester United? Andiamo dal nostro numero 10, dicca come senti questa mattina, ragazzi, grazie, il Tassai, qui il Tassai dal Stanford Bridge è tutto, vi do la linea, Fabio, Grazie, Pepe Bergoglio!